Sono Michele Zuin del Comune di Padova Settore Ambiente e siamo partner del progetto Covenant Capacity che ha realizzato una piattaforma online suddivisa in due livelli per funzionari ed amministratori degli enti locali che abbiano intenzione di implementare il proprio piano d'azione per l'energia sostenibile. Il progetto ha consentito di realizzare quattro workshop e di cui involgere a livello nazionale più di 60 enti locali che si stanno muovendo o stanno migliorando le loro performance nei temi della mitigazione e cambiamenti climatici.